Consigliere, quali sono le novità di questo progetto di legge che presenterete per quanto concerne la mobilità sostenibile? L'idea è proprio quella di dare maggior impulso all'uso della bicicletta. Ovviamente la nostra regione, per motivi morfologici e orografici, impedisce lo sviluppo e l'uso di questo mezzo, ma attraverso le bici a pedalata assistita si potrebbe sostituire l'uso nell'età più giovane delle moto, che sono sicuramente molto più pericolose e molto più inquinanti, e l'uso dell'autovettura soprattutto all'interno delle grandi città. La nostra regione non si presta all'uso della bici per ovvie ragioni e soprattutto c'è un problema di costi. Le bici a pedalata assistita hanno un costo ancora troppo alto. L'idea è proprio quella di dare un piccolo finanziamento per un massimo fino a 200 euro o comunque il 30% del costo della bici e andare incontro a questa esigenza e quindi dare un maggiore sviluppo e un maggiore impulso alla vendita di questo mezzo. Una proposta che va nella direzione della mobilità sostenibile? Assolutamente sì, questo era nel nostro programma. L'idea è assolutamente quella, promuovere quanto più possibile l'uso di mezzi ecosostenibili. La bici è esattamente uno di questi. Nelle regioni del nord questo già avviene. Ovviamente in paesi della comunità europea, che sono molto più pianeggianti del nostro, la bici è il maggior mezzo di locomozione. Nella nostra nazione questo è ancora molto limitato. Pensiamo che in Italia soltanto 5.000 unità di bici a pedalata assistita se non ad oggi sono state vendute. è un numero ridicolo per una regione che dice ancora di essere il pomone verde d'Abruzzo, il pomone verde d'Europa.